Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni. A Firenze, per i lavori di riqualificazione di Piazza dell'Isolotto, sono in vigore divieti di transito nella piazza da Via delle Hortensie a Lungarno dei Pioppi e in Via degli Gustri. Con rientro a scuola, anche per gli studenti delle superiori, è in atto una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico. Aggiornamenti e approfondimenti sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 857 05 30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!